Sì, abbiamo pensato a questa iniziativa proprio perché è nostra intenzione come amministrazione comunale valorizzare quelle che sono le eccellenze locali unite a quelle che sono le eccellenze regionali. Noi qui in Calabria abbiamo delle aziende vinicole che sono rinomate in tutto il mondo, è giusto valorizzarle ed è giusto valorizzare i vini in aggiunta e accanto a quelli che sono i piatti tipici della nostra zona. La nostra missione è quella di fare in modo che Fuscaldo possa tornare ad essere quella che era negli anni 60 del secolo scorso, la perla del Tirreno-Cosentino, una meta ambita da turisti da ogni parte d'Italia e del mondo, è un luogo conosciuto anche oltreoceano e noi vogliamo tornare a quel tempo.